Siamo insieme alla dottoressa Matilde Pirrera presso il palazzo comunale Palazzo Orsini e la dottoressa che insieme ai due subcommissari Filippo Romano e Beatrice Mariano hanno preso il posto dell'ex amministrazione Coluccia. Ovviamente ricordiamo l'amministrazione Coluccia è stata dimissionata da parte di 13 consiglieri. Ecco la prima domanda che poniamo alla dottoressa Pirrera e intanto cosa ne pensa di Galatina? Supponiamo che l'abbia quantomeno un po' visitata questo paese. Sì diciamo che l'avevo già visitata prima comunque del commissariamento senza sapere che sarei stata incaricata appunto quale commissario del comune di Galatina prima addirittura e lo scioglimento e sono rimasta o meglio della sospensione poi per il futuro scioglimento del consiglio comunale e sono rimasta estasiata comunque credo come tutti penso che sia uno spettacolo unico quello della chiesa di Santa Caterina però non è soltanto la chiesa di Santa Caterina secondo me Galatina ha delle potenzialità eccezionali. Nei giorni scorsi siamo andati in visita anche con Sua Eccellenza il Prefetto che ci ha onorato e la sua presenza a Galatina presso la biblioteca e abbiamo visionato il patrimonio storico nonché il museo e penso che Galatina abbia delle potenzialità estreme che altre realtà comunque non hanno quindi noi cercheremo anche se la nostra gestione è solo una gestione ordinaria e comunque noi siamo a termine di breve durata di individuare anche delle possibili modalità di sviluppo delle enormi potenzialità che questa bellissima città perché non credo si possa definire un paese io vengo da una città capologo di provincia Enna che conta 30 mila abitanti quindi è come Galatina fondamentalmente e quindi devo dire che trovo che sia un comune estremamente affascinante Ecco entriamo un po' nello specifico dell'attività della dottoressa Pirrera. Nei giorni scorsi alcuni articoli stampa hanno raccontato un po' il lavoro che lei sta compiendo qua presso Palazzo Orsini in particolare si parla di commissariamenti di alcuni settori dell'amministrazione o quantomeno questa è stata la notizia che la gente ha letto e che ha compreso immediatamente. Vogliamo un po' comprendere un po' tutti quanti anche i nostri telespettatori qual è il lavoro che lei sta compiendo in questo momento e cosa significa aver commissariato o quantomeno aver preso in mano alcuni settori dell'amministrazione del comune di Galatina? Allora bisogna un attimo fare chiarezza perché mi rendo conto che forse i titoli dei giornali inducono in errore. Io e i miei colleghi noi siamo in tre e dobbiamo conciliare le esigenze del comune anche con le esigenze della prefettura quindi cerchiamo di fare al meglio in modo ottimale quello che è possibile sia come dirigenti prefettizi e naturalmente come commissari e subcommissari. In qualche modo noi sostituiamo, non in qualche modo diciamo è stato commissariato l'organo politico perché si è sciolto il consiglio quindi non c'è più l'aggiunta e non c'è più il sindaco per cui noi ci siamo divisi i settori da un punto di vista politico è come se i colleghi fossero dei mega assessori per evitare la presenza nell'atto, nel firmare gli atti di tutti e tre in modo da poter avere una maggiore autonomia in nome di quello che è l'obiettivo che noi attuiamo in prefettura che è quello della razionalizzazione per il raggiungimento degli obiettivi della maggiore efficienza e del risparmio in ogni modo sia di risorse umane che economiche. Ecco diciamo che c'è l'ordinaria amministrazione ma è sembrato che lei insieme ai colleghi stesse mettendo anche mani nella amministrazione straordinaria per certi versi anche perché si parla, leggo i titoli che ovviamente come diceva lei prima non sempre danno atto di quello che si sta compiendo. Parlare per esempio di chiusura della CSA o quantomeno entrare anche nel merito dell'attuale presidente e di alcuni dirigenti. Ecco cosa significa, cosa la gente deve effettivamente sapere di quello che sta succedendo a Palazzo oggi? Allora per quanto riguarda i dirigenti come le dicevo noi lavoriamo per obiettivi che sono quelli della razionalizzazione dell'ottimizzazione dell'attività amministrativa. Noi stiamo riorganizzando l'attività dirigenziale anche perché abbiamo la necessità di estrapolare dal settore urbanistico in cui è incardinato il corpo dei vigili urbani perché in base a una recente disposizione di legge regionale deve avere una sua autonomia quindi non potendo superare i limiti di spesa ma al di là di questo per un discorso di razionalizzazione stiamo facendo delle scelte di ottimizzazione dei servizi quindi abbiamo sospeso che peraltro comunque decadeva al termine della precedente legislatura un incarico che era stato conferito non a un dirigente ma come incarico esterno seppur si trattava di personale comunque del comune e in modo da poter assumere a tempo determinato un comandante dei vigili urbani per soddisfare quello che è peraltro un obbligo di legge. Per quanto riguarda il CSA anche lì l'argomento, l'oggetto dell'attenzione non è tanto il CSA che ha una sua vita stabilita per legge che finirà nel dicembre del 2012, il problema è una migliore organizzazione di quello che è il problema dei rifiuti perché l'ato lamenta dei debiti nei confronti del comune e quindi è necessario per tutelare quelle che sono come dicevamo le risorse del comune fare innanzitutto chiarezza. Quindi abbiamo fatto un atto di indirizzo sia al dirigente dei lavori pubblici che al dirigente, al dottore Caforo che è il dirigente del settore economico per avere contezza di quelle che sono le criticità economiche del comune nell'ambito della gestione dei rifiuti. Nessuna preclusione nei confronti di nessuno ma il bene e l'interesse del comune penso che sia prioritario. Certo, fermandoci un attimo sulla CSA, si può pensare anche di far partire la raccolta differenziata su tutto il territorio galatinese? Era uno degli obiettivi che si era dato la precedente amministrazione anche in previsione della chiusura? Allora, anche questo era stato previsto in una delibera, credo, del luglio se non vado a memoria però con dei tempi di scadenza che comunque non sono stati rispettati per cui devo dire che adesso tutto si inquadra, visto che siamo in proroga perché mi sono vista costretta comunque a concedere una proroga in base a una ordinanza contingibile urgente per la gestione del sistema dei rifiuti in attesa dell'espletamento necessario del bando di gara di cui ho incaricato comunque lato, come è giusto che sia, perché la legge attualmente vigente parla di gestore unico dei rifiuti. Quindi siccome era necessario predisporre un bando di gara, un capitolato e credo che tutti comunque i comuni si siano orientati nel senso di far sì che sia lato che comunque ha le competenze tecniche necessarie a gestire il bando di gara. Questo è almeno quello che noi abbiamo deciso. Quindi abbiamo incaricato lato di espletare le procedure di gara nel minore tempo possibile in modo da dare un servizio efficace, efficiente e che permetta anche se possibile un risparmio in relazione poi a quella che è la tariffa che grava sui cittadini. Ecco, c'è un'opinione pubblica e noi la riscontriamo quasi giornalmente anche sul nostro sito che è a metà tra il sito di informazione e il blog, dove sostanzialmente benvedono l'attività commissariale qua a Galatina. Lo hanno fatto già due anni fa, quando c'è stata l'altra amministrazione che è stata dimessa e lo stanno facendo anche oggi, nel senso che pochissima fiducia alla politica, ma tantissima fiducia al commissario. Ecco, la domanda che io le voglio porre è questa. Gli atti che lei insieme ai suoi collaboratori state svolgendo ora, sono atti che avrebbe potuto tranquillamente svolgere la politica? Allora, io sono... questo... diciamo che di questa cosa se ne sta parlando tanto a livello nazionale perché c'è tutta questa polemica, tutta questa discussione aperta sul governo Mondi senza volere fare dei confronti naturalmente, assolutamente, col governo dei tecnici. Però io ritengo che gli organi, che gli enti locali debbano essere comunque diretti, gestiti dalle amministrazioni politiche, perché è giusto che così sia. La mia presenza qui, di cui io sono comunque onorata, perché è una città, devo dire, bellissima, emozionante, entusiasmante, che stimola a fare, devo dire. Però penso che sia un vulnus non del sistema democratico, perché io rappresento del sistema democratico, ma del sistema sicuramente politico. Gli atti che noi abbiamo fatto sono gli atti di mera organizzazione e di razionalizzazione, che qualsiasi amministrazione può porre in essere e deve, se lo ritiene, porre in essere secondo il proprio programma politico. Noi non abbiamo un programma politico, perché non è questo il nostro combito. Abbiamo degli obiettivi, come le dicevo. Quello è l'ottimizzazione dei servizi. Quello che riusciremo a fare in questo breve periodo di tempo è ottimo. Per noi è già un buon risultato. Per esempio, le faccio un esempio. C'è tanta gente che chiede di incontrare il commissario e i subcommissari. Noi abbiamo dato disposizione che le richieste debbono essere adeguatamente istruite, in modo che siano corredate anche dal parere del dirigente tecnico, anche dall'avvocato del comune. Perché noi non vogliamo soltanto soddisfare il bisogno della gente di essere sentita, che è già una cosa importante, perché a volte magari la gente ha bisogno di trovare l'istituzione che l'ascolti, però noi vogliamo anche dare delle risposte. Quindi se magari non riceviamo immediatamente le persone è perché nel momento in cui le riceviamo vogliamo, ovvero possibile, dare delle risposte. Perché secondo me è quello il compito delle istituzioni. Non soltanto ascoltare e dare in qualche modo l'illusione comunque di non essere dei numeri, ma di essere stati sentiti. Ma è importante se riusciamo anche dare delle risposte concrete alle criticità che ognuno vive come prioritarie. Ed è normale che sia così. Certo. Ci avviamo verso la fine dell'intervista. Lo scorso anno, quando ci fu l'apertura dell'anno giudiziario, si fece, si sottolineò una questione dove Galatina era in mezzo, si parlò di legalità, un motivo che si è trascinato un po' per tutto l'anno. Ovviamente a lei non le facciamo nessuna domanda nel merito, anche perché lei ha un ruolo tecnico e non politico e sicuramente la politica avrebbe già dovuto rispondere nel merito. Però da quanto lei ha potuto vedere in questi giorni, in questi pochi giorni che risiede a Palazzo Orsini, ecco, è possibile che Galatina possa risorgere? Tenendo presente negli ultimi cinque anni Galatina ha avuto due amministrazioni abbondantemente suffragate e per ben due volte ha avuto anche due commissari. Ecco, questa è la domanda che la gente si pone. Perché? Questo glielo poniamo anche lei. Perché lei da esterna? Cosa vede? Cosa può immaginare per Galatina? Le dinamiche, come le dicevo, la mia presenza qua è il vulnus del sistema politico. Le dinamiche della politica vanno al di là poi delle possibilità gestionali. Le sa benissimo, ci sono altro tipo di dinamiche. È chiaro che evidentemente non si è riuscito, la presenza dei commissari sta a individuare che forse c'è una classe politica che necessita di essere più compattata, che necessita magari di organizzarsi su obiettivi più condivisi. Poi è vero, comunque la relazione di cui parlava lei non dà un'immagine, rappresenta delle criticità sulla presenza della malavita nell'ambito della città. Però credo che comunque l'impegno di tutti, io mi sono occupata di comuni in Sicilia che poi sono stati sciolti per mafia, però la mafia non riguarda i cittadini. La mafia, se c'è o meglio la criminalità organizzata, riguarda alcuni settori, riguarda alcune presenze comunque limitate che poi si lasciano albergare forse magari per il quieto vivere, perché sono delle cose a cui non si dà forse l'importanza che dovrebbero, perché anche i segnali sono importanti in una realtà. Quindi non credo che non ci siano possibilità di riscatto per una città che non credo abbia questo tipo di problemi. Io penso che la politica dovrebbe più combattarsi per essere, se ci sono delle criticità di questo tipo, per affrontarle in modo congiunto. Ecco, in conclusione, dottoressa, ovviamente ringraziandola per il tempo che ci ha messo a disposizione, un messaggio per i cittadini di Galatina che ovviamente sono delusi e non riescono più a guardare il proprio futuro. Ecco, non per essere ecumenici, ma un messaggio di speranza ai cittadini, alla popolazione di Galatina, di Noa, di Colle Meto e di Santa Barbara. Lo possiamo dare? Lo si può ancora dare? No, io dico che comunque bisogna avere sempre fiducia nelle istituzioni. Qualche tempo fa, quando è venuta la Juve, alcuni giornalisti mi hanno chiamato, mi hanno interessato, per fare le varie dei rifiuti che mi dicevano non essere dignitosi per la città di Galatina. Io mi sono lamentata, hanno tra l'altro registrato anche la mia intervista, io ho detto che noi siamo disponibili per la città di Galatina. Certo, è importante il fatto che magari andavamo sulle tv nazionali, ma se c'è qualcosa che non va, i cittadini sanno che noi ci siamo e non solo per le problematiche personali o comunque del condominio, anche per le problematiche della città. Io le ripeto, per me sarebbe bellissimo poter valorizzare in questo breve periodo quel patrimonio storico di cui io sono rimasta proprio entusiasta. È una cosa bellissima, per cui dico se avete delle idee, dei suggerimenti, noi ci siamo, ma non solo noi. Bisogna riprendere fiducia nelle istituzioni e poi le istituzioni impareranno in qualche modo anche quelle politiche, forse è da farsi meno distrarre dai particolarismi in vista dell'obiettivo comunque globale. Bisogna crescere insieme, almeno io. Questo è il mio messaggio. Se ce la facciamo, cresciamo insieme. La ringrazio, è molto gentile dottoressa. Grazie a voi.